Tutti i follower e chi segue Scattacoltrend sui sui social sono con ormai probabilmente chi ci segue più assiduamente già lo verrà riconosciuto, sono col dottor Fausto Giustetto. Fausto Giustetto è presente tramite Anas Imprese sulla nostra app, quindi anche per rompere un attimo il ghiaccio rispetto all'argomento che andremo velocemente a trattare, invito dal menu principale proprio della nostra app, cioè la sezione Anas Imprese. Di cosa parliamo? Si parla di accesso al credito, credito agevolato, medio credito centrale, quindi tutto quel mondo che in maniera particolare, penetrante, va a interessare le piccole, le medie imprese, il libero professionalista, cioè coloro che hanno necessità per sviluppo, ricerca, per un progetto che possono avere, hanno necessità di un accesso al credito. Oggi l'accesso al credito è un argomento fondamentale, il credito è la spina dorsale del commercio, se non ci fosse il credito non esisterebbe probabilmente il commercio nel senso più ampio del termine. Gli istituti di credito, anche se oggi spesso non lo fanno, ma sono per l'appunto istituti di credito e debbono dare liquidità al libro professionista, alle aziende che per svilupparsi ha necessità appunto di liquidità e di credito. I lacciuoli ormai da quando nacque Basilea, Basilea 2, Basilea 3 sono diventati tantissimi, tanto che può diventare quasi scoraggiante per chi non ha le giuste informazioni intraprendere un percorso per accedere al credito, sia per la piccola partita IVA ma anche per la piccola impresa tante volte, se non c'è dall'altra parte una apertura, una corretta impostazione del rapporto con l'istituto di credito diventa il tutto farraginoso e spesso va per inerzia a diventare una cosa poi fatta molto tardi o fatta addirittura mai. Il dottor Fausto giustetto proprio per portare avanti in maniera molto mirata questo discorso ha creato Meridianum Fidi, lo ripetiamo, Meridianum Fidi ci darà alcune informazioni Fausto ma sostanzialmente tramite Meridianum Fidi vogliamo per l'appunto dare un'opportunità a chiunque abbia interesse a affrancarsi a Meridianum Fidi perché oggi mentre parliamo la piccola impresa potrebbe non avere bisogno ma un domani può avere bisogno di una consulenza per quello che può essere anche il discorso assicurativo o sul lavoro e poi chiaramente per quello che può essere focus, questo breve appuntamento, la necessità di accesso al credito, di valutare la propria posizione perché? Perché tante volte con i numerosi bandi che continuano ad uscire, con le opportunità che ci sono, l'imprenditore non ha effettivamente il tempo di andare a vedere e la giusta conoscenza e competenza di andare a sapere se ciò che è disponibile può essere idoneo per la sua impresa o meno. Sappiamo che spesso il rapporto col commercialista è semplicemente un fornirti i documenti a fine mese per e quindi molto spesso nove volte su dieci lo studio commercialista non è effettivamente una forma di consulenza che ti aiuta a crescere ma è solamente un addempimento formale dei doveri. Meridianum Fidi che appunto fa in questo caso capo al dottor Fausto Giustetto ma ha un team che personalmente conosco da anni assolutamente formato e che è già operato con tantissime pratiche e vase in maniera super soddisfacente su tutto il territorio italiano. Ecco Meridianum Fidi ti permette associandoti di avere effettivamente ma veramente una struttura che ti dice guarda oggi tu hai questa opportunità proviamo a prenderla oppure tu puoi chiamare Meridianum Fidi contattare e dire guarda io sono un associato ho questo dubbio ed effettivamente si va ad avere una consulenza che è costruttiva. Cedo la parola a Fausto Giustetto dopo che io così in maniera quasi indegna ma spero il meno il più esatta possibile affrontato rotto il ghiaccio diciamo. Grazie mille Enrico no 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 ci mancherebbe fin troppo troppo esaustivo. Buongiorno a tutti abbiamo creato Meridianum Fidi e stiamo tecnicamente non è ancora creato perché servono tutte le autorizzazioni ma arriveranno per appunto come diceva Enrico andare all'accesso permettere miglior accesso al credito anche con la nuova normativa di Medio Credito Centrale che avverrà dal primo gennaio 2024. Meridianum Fidi è un consorzio di garanzia un consorzio minore di garanzia che è frutto poi dell'esperienza del gruppo Novari. Gruppo occupa di appunto dell'operazione di Medio Credito Centrale quindi la garanzia statale e Meridianum Fidi è un ente a differenza del gruppo Novari che sono tutte società Meridianum Fidi è un consorzio di garanzia quindi un ente quindi un soggetto diciamo istituzionale e quindi ogni banca diciamo ha il dovere di ascoltare i confidi una volta che questo si si convenziona o gli presenta una pratica. I vantaggi sono sono quelli di avere tutta la struttura del gruppo del gruppo Novari a supporto per rompo parliamo del team del dottor Giustetto la cui capogruppo appunto Novari a ha già in piedi in essere in maniera fruttuosa da anni convenzioni con oltre 90 bcc sul territorio italiano ok sì esattamente quindi il fatto di poter essere un ente adesso cambia radicalmente cambia radicalmente perché ci occupiamo non più di fare un service all'azienda e alla banca ma di essere ente garante direttamente. Dentro a Meridianum Fidi all'interno trovate tutti i servizi che se che il gruppo ha creato e il gruppo ha creato servizi attraverso Novari Broker che è la società assicurativa il broker assicurativo Novari S.P.A. che è la società di mediazione e Novari Consulting e Novari S.R.L. che per essere più chiaro l'azienda che si aggrega a Meridianum Fidi va all'accesso al credito ma con tutti i servizi che può ottenere tutti i servizi a livello appunto assicurativo e finanziario. Questo andiamo un attimo sul pratico diamo subito una mail poi sarà nel nel video in sovrimpressione ma un'e-mail per qualsiasi info. La mail che usiamo possiamo in questo momento usiamo direttamente la mia perché amo essere soggetto diretto che parla con con chi vuole avere tutte le informazioni quindi giustettochiocciolanovaria.eu in questo momento usiamo questa. Lo trovate anche nel video la troverete in descrizione così come troverete in descrizione e anche in questo video state vedendo poi già delle slide relative a un pdf proprio che ci dà qualche informazione più precisa su Meridianum Fidi. Fausto a te. Ecco per aggregarsi a Meridianum Fidi c'è appunto una quota associativa una quota associativa è di 350 euro che non è annua ma è come una quota associativa ma è una quota una tantum per essere appunto socio del confidi poi è ovvio che il consorzio di garanzia è un soggetto che può ricevere anche investitori investitori che hanno la deducibilità fiscale nel momento in cui fanno l'investimento quindi ogni soggetto che è interessato al progetto e vuole investire nel progetto ha anche il vantaggio importante della deducibilità fiscale. Quindi per vedere se anch'io che sono a zero di queste cose ho capito io posso decidere di associarmi perché posso essere interessato perché secondo me Meridianum Fidi può aiutarmi e quindi comunque mi piace il progetto mi piace il team pago la quota che la pago come quota una tantum quindi pago 350 euro sono associato, benissimo oppure potrei anche dire io vorrei essere, vorrei fare, perdonami se la dico così in maniera molto grezza vorrei fare da banca, cioè vorrei essere, vorrei mettere il mio capitale in Meridianum Fidi la quale fa da garante tra un suo associato e la banca che deve erogare quindi Meridianum Fidi in pratica possiamo dire in parte fa da banca, cioè fa lei da garanzia Meridianum Fidi fa da garante e il soggetto che ha voluto mettere più dei 350 euro i 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 euro che aveva voluto investire perché crede nel gruppo, crede nel progetto ha la deducibilità fiscale in ogni caso chi si associa o chi decide di credere al progetto e mettere un capitale 1000, 2000, 5000, 10.000, un miliardo in Meridianum Fidi perché crede in questo ente che fa da garante a favore di chi piccolo imprenditore di partita IVA richiede un credito, ha comunque anche la deducibilità fiscale quindi ecco, due soggetti che possono essere interessati da questo nostro breve appuntamento chi ha necessità di essere seguito, chi ha necessità di una consulenza e chi invece vuole approfittare della deducibilità fiscale è una deducibilità fiscale per l'interezza della somma che viene corrisposta come investimento? Sì, sì, totale, 100% credo sia molto interessante da questo punto di vista quindi poi eventuali, più tecniche, l'email ce l'abbiamo io non mi vorrei dilungare faremo altri appuntamenti così brevi per dare delle pillole perché poi argomenti del genere vanno secondo me digeriti pian piano ma capiti di volta in volta senza accumulare poi dubbi avete un'email ovviamente anche qualsiasi dubbio lo scrivete a me sarà girato a Meridianum Fidi e al dottor Fausto Giustetto l'unica cosa che posso dirvi per chi è affezionato a scatta col trend e quindi ah ormai, e lo ringrazio, fiducia in me è che personalmente faccio, do la mia parola totale, garanzia per quello che è l'approccio e il team del dottor Fausto Giustetto alcuni di voi già lo conoscono quindi non c'è neanche bisogno che io dica questo chi si fida di me è al 100% si deve fidare di Fausto al 130 perché ancora più serio e trasparente di me senza alcun dubbio quindi semplicemente si valuti questa opportunità sia se si ha necessità o se si pensa che si debba avere necessità per la propria attività una quota associativa non annua ma una tantum irrisoria ok di 350 euro e poi valutare se si ha disponibilità anche come sorta di investimento entrare in questo progetto e fornire un capitale che sarà totalmente fiscalmente deducibile quindi avete il pdf che sta scorrendo avete l'email di Fausto vale sempre la mia per qualsiasi cosa e quindi nasce a breve con il nuovo anno meridianum fidi attendiamo sia associati che vorranno migliorare la loro situazione verso il discorso di accesso al credito che spesso può essere ostico in questo caso vi garantiamo velocità e competenza ci metto io la mano sul fuoco perché lo so e l'ho visto nel corso degli anni con il team di Fausto e attendiamo investitori che vogliono approfittare di questa situazione interessante della totale deducibilità fiscale di quanto corrisposto in meridiano un fidi Fausto grazie grazie mille a te Enrico grazie a tutti voi ho informazione buona serata e buon lavoro a tutti arrivederci grazie grazie a tutti